buongiorno amici oggi mi faccio un paio di paesini rapino e farafel rompetri le solite strade di sestate da anni immancabili da qui si gode una bella vista sul mio paese che filetto la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel frattempo sto provando anche l'applicazione Comod. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Prendiamo un caffettino. Buongiorno. 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 E' proprio una bellissima giornata d'autunno. colori stupendi, temperatura ideale per andare in bici Grazie a tutti La, 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 la... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene amici il mio mini tour è finito, sembra che il giro che oggi è andato abbastanza bene e niente, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.